Roma 1 presenta Indie Musica dal vivo in tv Suoni, visioni e cultura baria Il giro del mondo con tutte le note possibili Tutto quello che vale la pena di sapere, vedere, ascoltare Sulla musica di ieri, oggi e domani A cura di Guido Bellachioma Live studio, Stazione Birra, Roma Via Placanica 172 www.stazionebirra.it Info bellak.chiocciolarice.it www.myspace.com Slash IndieRomaTV Domenica alle 13 Su Roma 1